Come via per Sanfermo questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio nell'appartamento dell'ultimo piano, all'interno un padre con quattro bambini. Un gesto folle e disperato. L'uomo, un 49enne marocchino, ha dato fuoco alla casa e poi si è tolto la vita. Morti nell'incendio anche due bambine e un bambino. La quarta figlia è in gravi condizioni al Buzzi di Milano. I vigili del fuoco e i soccorritori, fortemente provati dalla drammaticità della scena alla quale hanno assistito, hanno sfondato le finestre per entrare nell'appartamento dell'ultimo piano e hanno trovato le cinque persone, padre e quattro figli, chiusi in una stanza sopra un letto. Pagni e coperte accatastate come per innescare l'incendio, per il padre non c'era più nulla da fare. I quattro bambini, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, erano incoscienti e in arresto cardiaco. Sono stati portati d'urgenza in ospedale. Due bambine, di 3 e 7 anni, sono morte poco dopo all'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia per intossicazione. Il terzo figlio, il maggiore di 11 anni, è arrivato senza vita all'ospedale Valduce di Como, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il bilancio della tragedia è quindi di quattro morti, il padre e tre figli. La quarta figlia, come detto, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Buzzi di Milano. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli uomini del soccorso e la polizia locale, anche le pattuglie della polizia di Stato e della scientifica. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo abbia piccato il fuoco e poi si sia suicidato. Un delitto maturato in una forte condizione di disagio sociale. La famiglia era seguita dai servizi sociali del comune di Como. L'uomo era disoccupato. La madre dei quattro bambini era in cura in una struttura sanitaria e i bambini pare non andassero a scuola da tempo. L'uomo era disoccupato.